la vita della mente the life of mind Anna Arendt noi Anna Arendt la conosciamo per la tesi celeberrima della banalità del male e su questo c'è anche un nostro video bellissimo su Intus Leggere ma Anna Arendt è stata una pensatrice dalla vastissima cultura e anche da una buona capacità di produzione di libri e di opere tra questi appunto c'è la vita della mente la vita della mente è un'opera postuma perché la Arendt morirà nel 75 e la prima edizione di quest'opera che è scritta in inglese per questo l'ho definita the life of mind non per fare quello che vuole vuole parlare inglese perché oggi va di moda ma perché in effetti lei scrisse quest'opera in inglese è un'opera teoretica fortemente teoretica nella quale si affrontano in realtà le facoltà spirituali che sono quelle fondamentali che riguardano appunto la mente qui mente potrebbe essere inteso anche come anima spirito natura umana è un termine che raccoglie tutti questi questi termini con sé volere e pensare sono le facoltà spirituali per l'appunto alle quali dedica questo libro la Arendt si tratta di di un'opera teoretica si diceva ma di un'opera teoretica che però è inseparabile dalla dimensione della comunità della polis dello sguardo politico della filosofia dell'Arendt Anna Arendt ha sempre detto di se stessa di essere una teorica della politica non si è mai giudicata come filosofa come pensatrice invece lo era e come era una grande pensatrice forse per un eccesso di modestia non diceva di esserlo tuttavia ella non riesce a a considerare la filosofia anche nel suo aspetto teoretico perché parlando di pensiero e di volontà stiamo parlando di assolutamente di filosofia teoretica non riesce a separare questa dimensione da quella politica non ha senso porre una questione teoretica senza che questa non sia considerata all'interno di un di una comunità di esseri umani di una socialità di un mondo di persone di soggetti incarnati che si che si scontrano si incontrano e che hanno a che fare l'uno con l'altro quindi quest'opera si chiederà cosa significa pensare per citare anche martin heidegger e ancora si chiederà l'Arendt dove siamo quando pensiamo che capacità il pensiero rispetto al mondo una capacità di estranearci dal mondo oppure in realtà pensando noi siamo ancora più dentro al mondo e quindi in realtà questo pensare sarebbe non una non un ritrarsi dal mondo ma al contrario un esserne dentro fino in fondo quanto invece al volere è il volere è rappresentato da quel concetto che è la volontà da quell'idea che è la volontà che ha sempre posto alla filosofia una grandissima sfida un grande problema la volontà può essere libera è effettivamente libera se sì in che modo lo è e anche qui è come deve esserlo a partire dal fatto che ciascuno può volere in un in un consorzio di altre persone di altri esseri umani quindi non si tratta di una volontà isolata su un'isola deserta quest'opera quindi di Anne Arendt va considerata alla luce di quello che è il suo pensiero che è sempre stato attento alla dimensione politica la ritenuta centrale ed è inseparabile quindi la filosofia teoretica da quella politica diciamo qualcosa di più su questo testo si diceva che un testo postumo uscito nel 77 l'Arendt era morta nel 75 si trattava di una serie di conferenze che l'Arendt avrebbe tenuto negli Stati Uniti le cosiddette Gifford Lectures in queste conferenze appunto l'Arendt vuole mostrare cosa voglia dire pensare se è possibile volere come va intesa la volontà dove siamo quando pensiamo e vedremo perché questa domanda un valore filosofico anche se è una domanda che apparentemente non sembra dirci niente di non sembra dirci granché non ne capiamo il motivo ma in realtà ne ha uno importantissimo quindi il volere quindi il pensare ma c'era una terza parte che l'Arendt non riuscirà mai a concludere che era dedicata al giudizio in Kant noi andremo a guardare quelle che sono le caratteristiche fondamentali quindi di pensare e di volere attraverso l'opera dell'Arendt l'attività di pensiero è sempre stata considerata dal senso comune cioè dalle persone che non hanno a che fare non sono intellettuali diciamo così o semplicemente non non si occupano di questioni filosofiche metafisiche ma si occupano fondamentalmente della concretezza della vita e quindi di quello che è il giudizio collettivo popolare su qualcosa il senso comune ha sempre considerato il pensiero e il pensare come un'attività piuttosto strana strana perché noi sappiamo già che quelli che ci appaiono come introversi come pensierosi no li vediamo come creature strane che cosa nasconderanno che cosa staranno pensando dove sono quando pensano cioè perché sembrano nel loro pensare sembrano essere altrove come se non fossero più su questa terra come se fossero in una dimensione diversa una dimensione quasi trascendente come se il loro pensare li ponesse al di fuori del tempo dello spazio questo fatto evidentemente viene visto come assurdo dal senso comune perché sono le attività pratiche le attività quotidiane le attività utilitaristiche che contano che cosa può esserci di importante o di utile nel pensare nel pensare non affinché si produca qualcosa non nel pensare per produrre un oggetto nel pensare per costruire qualcosa o nel pensare per ottenere un ritorno economico o di qualche altro tipo ma di un pensare meramente speculativo fine a se stesso di un pensare su principi su astrazione su base di concetti e null'altro ecco perché l'uomo sente l'esigenza di pensare qual è il motivo profondo di questo fatto esiste un bisogno di pensare e se esiste perché non ci basta per così dire la comunità in cui viviamo la socialità che possiamo avere con gli altri nella piazza nei fori nei bar o dove volete l'arent riconosce che esiste evidentemente una sfida anche qui rispetto alla questione del pensare e che va capito fino in fondo questo bisogno questa necessità quasi di pensare e lo fa anche affrontando tutta una serie di altri pensatori a partire dall'antichità l'arent ne cita molti e l'opera è disseminata di citazioni che però non sono un esercizio sterile di erudizione quanto piuttosto il modo per argomentare e richiamandosi a certi autori certi pensatori per affrontare quelli che poi sono i suoi concetti a questo proposito vediamo con la prima citazione che cosa ci dice ann arendt catone era solito affermare che mai un uomo è più attivo di quando non fa nulla mai e meno solo di quando è solo con se stesso se si ammette che catone avesse ragione appaiono qui delle domande naturali che cosa facciamo quando non stiamo facendo altro che pensare dove siamo noi circondati normalmente dai nostri simili quando siamo soltanto con noi stessi se dobbiamo dare credito a catone ci appaiono queste due stranezze quando l'uomo pensa non fa nulla perché pensare vuol dire non fare ma appunto pensare questo senso il pensare si contrappone all'azione ed è proprio per questo che appare strano strambo e paradossale assurdo e questo non esserci nel pensare rifugiarsi nel pensiero in che senso avviene che cosa stiamo facendo pensando perché il pensare pur sempre un'attività dunque che cosa stiamo facendo quando pensiamo domande come capite tutt'altro che banali domande fondamentali del pensiero e della filosofia come si può ammettere che l'uomo quando è solo con se stesso quando dialoga in solitudine con sé quindi quando fa introspezione quando riflette pensa su se stesso sulla propria condizione e non nel rapporto con gli altri nelle relazioni sociali come si può dire con catone che edi non è mai non è mai meno solo cioè in questo senso è paradossalmente in compagnia della dell'anima più importante intanto dobbiamo chiarire un punto fondamentale che è quello che poi Ann Arendt analizza come presupposto di tutta questa attività di pensiero gli esseri umani vivono in un mondo di apparenze la conoscenza l'essere per noi l'essere si dà come apparire sembra un paradosso anche qui ma in realtà essere e apparire coincideranno le cose di cui facciamo esperienza appaiono ma non solo le cose appaiono le persone noi vediamo le persone perché queste ci appaiono appaiono nei nostri organi di senso se qualcosa non è un fenomeno cantianamente cioè non ha la possibilità di apparire a noi e di apparire secondo le nostre categorie e quindi la nostra sensibilità semplicemente non è dunque l'uomo vive in un mondo di apparenze che possono essere anche parvenze quindi qualcosa che sembra ma non è così com'è dunque noi dobbiamo innanzitutto riconoscere di essere dentro questo mondo di apparenze e che quindi l'apparire non è un qualcosa di che si aggiunge all'essere alla possibilità di conoscenza ma l'apparire è il contesto quello dell'apparenza e delle apparenze dentro il quale ci siamo noi tutti anche qui leggiamo l'arendt il mondo in cui gli uomini nascono contiene molte cose naturali e artificiali vive e morte caduche ed eterne che hanno tutte in comune il fatto di apparire e sono quindi destinate a essere viste udite toccate gustate e odorate ad essere percepite da creature senzienti munite degli appropriati organi di senso in questo mondo in cui facciamo ingresso apparendo da nessun luogo e dal quale scompariamo verso nessun luogo essere e apparire coincidono non esiste in questo mondo nulla e nessuno il cui essere stesso non presupponga uno spettatore in un certo senso quindi siamo tutti spettatori assistiamo tutti a quello spettacolo che l'esistenza nel suo darsi nelle sue forme di apparire costante sotto i nostri occhi quindi noi veniamo dal nulla perché veniamo dal nulla di cui non conosciamo nulla prima della nostra nascita e anche dopo la nascita non conosciamo nulla paradossalmente conosciamo soltanto ciò che c'è in mezzo c'è la nostra stessa vita dunque viviamo in un mondo di parvenze di cose che appaiono ma il pensiero appare no non credo che voi vedete forse una lampadina sopra la mia testa mentre io sto pensando no quindi in questo senso capite bene che il pensiero non ha un aspetto visibile esteriore di apparenza di parvenza certo possiamo vedere qualcuno in una posizione di questo genere come il pensatore di rodin e quindi pensare che qualcuno sia intento a pensare ma è anche questa una forma di apparire e quindi se il pensare il pensiero svanisse dal mondo delle apparenze dove finirebbe dunque noi esseri umani siamo un'apparenza nel mondo dell'apparire un'apparenza tra le apparenze siamo costituiti di un guscio per così dire è il nostro corpo o meglio ancora la nostra esteriorità il nostro aspetto superficiale esteriore però superficiale che cosa vuol dire semplicemente di superficie attenzione non vuol dire quindi che l'aspetto esteriore non conta l'aspetto esteriore conta e l'arent fa riferimento in tal in tal senso alle ricerche di un grande biologo di un grande esperto di etologia portman portman scrisse appunto le forme viventi un saggio in cui mostra come realtà gli animali e tra questi l'uomo tutti gli esseri viventi in generale considerano l'autopresentazione di sé cioè il fatto di presentarsi in un certo modo e apparire in un certo modo come parte essenziale e fondamentale di se stesse e della propria natura noi vogliamo apparire in un certo modo io metto la giacca se voglio apparire elegante metto una tuta se voglio apparire come lo sportivo posso usare una montatura di un occhiale piuttosto che un'altra e così via quindi io comunico che voglio apparire in un certo modo all'esterno e quella è parte della mia natura è un modo di presentarsi fondamentale quindi questo involucro è parte della mia essenza il fatto che sia superficiale cioè di superficie non deve implicare un aspetto secondario c'è però qualcosa che noi non vogliamo che in qualche modo appaia e si manifesti non tutto ciò che pensiamo viene detto non tutto ciò che siamo appare o traspare c'è un aspetto di interiorità che è tutto dentro noi stessi e si cela dietro a ciò che appare e che noi tendiamo non tanto a nascondere quanto questo non appare non appare perché quell'interiorità a questo involucro che come l'ho definito c'è questo corpo questo aspetto esteriore che appare in un certo modo ma questo difende una appunto in qualche modo una una protezione quasi un velo parato dinanzi a quella che la nostra interiorità al nostro animo più profondo dunque noi siamo dentro delle apparenze siamo un'apparenza noi stessi il fatto che ci siano delle apparenze quindi delle parvenze però implica anche che se ci sono delle parvenze delle cose che appaiono potrebbero apparire falsamente e se ci sono delle parvenze delle cose che appaiono ci sono di conseguenza dei possibili errori cioè l'essere corrisponde alla verità se qualcosa è e in quel modo se le cose stanno così allora questo è vero se invece le cose appaiono in un certo modo allora potrebbero essere parvenze cioè semplici apparenze che non contengono nulla e quindi proprio questo il problema del pensare nel pensare che un'attività completamente interiore che non non ha nessun modo di presentarsi se non attraverso il linguaggio le parole che vengono comunicate e dette c'è una dimensione in qualche modo di azione di un fare del pensiero ecco che cosa stiamo facendo quando stiamo pensando in tal senso come vogliamo apparire e come e come appare all'altro il nostro pensare il pensare a un potere che non è da poco è quello di rendere irreali le cose mi spiego quante volte abbiamo sentito abbiamo detto ma non ci pensare vai avanti se per esempio stiamo facendo una salita e siamo stanchi o stiamo appunto provando un certo disagio magari c'è un pensiero ricorrente che ci infastidisce ci fa stare male allora una delle strategie qual è non pensarci perché è proprio il pensare che rende vivo e che rende quindi presente e quindi ci fa apparire alla mente ma la mente stessa anche la possibilità di appunto annullare il pensare infatti l'attività della mente è tutta interna a se stessa la mente può sopprimere per certi versi il corpo perché può farne a meno il pensiero può fare a meno del nostro corpo come può fare a meno del nostro io della nostra identità il pensare avviene entro se stesso è qualcosa che ha bisogno unicamente di se stesso e può fare in modo che certe cose non ci tocchino per esempio se stiamo provando una passione nel bene o nel male che ci travolge e che è troppo forte possiamo distrarci possiamo fare altre cose che appunto faranno sì che noi non non avremo perciò nessun tipo di problema perché andremo appunto a in qualche modo a mettere a non a non fare essere più quel pensiero vediamo la arendt che cosa ci dice su questo tutto ciò che riflessivamente credi esistere cessa di esistere non appena comincia a pensarvi ecco ciò che la filosofia la dea della consolazione dice a boezio e il vecchio consiglio degli stoici ciò che tu neghi col pensiero e il pensiero in tuo potere non può toccarti il pensiero lo rende irreale solo perché il pensiero implica un ritrarsi può essere usato come strumento di evasione il pensiero implica una sospensione della nozione del corpo e dell'io pensare la sola attività che per il suo esercizio non richiede altro che se stessa quindi il pensare alla capacità di di mettere tra parentesi per usare un'espressione della fenomenologia l'esistenza di qualcosa e quindi poterla annullare al potere di far essere e far apparire per noi a noi oppure far scomparire e questo è tutto il nostro potere ed è interno al pensiero stesso dunque in questo senso il pensiero non necessita che di se stesso come abbiamo visto ma pensare anche cercare le essenze di qualcosa ma le essenze sono ovunque sono in tutti i luoghi ma proprio perché sono ovunque in realtà non sono in nessun luogo non esiste un luogo preciso in cui queste essenze siano per questo si potrebbe dire che il pensiero è fuori dello spazio e in un non luogo anche in un non tempo si potrebbe dire perché è extratemporale noi quando pensiamo sembra quasi che siamo fuori dal tempo se leggiamo un buon libro e questo ci fa appunto ci rimette al mondo diciamo così no perché ci aiuta a pensare a riflettere ma paradossalmente lo facciamo al di fuori del tempo sembra che il tempo voli e così in qualche modo anche per lo spazio non c'è uno spazio dell'essenza il pensiero non ha luogo proprio perché non è visibile leggiamo le parole di Anna Arendt l'essenziale è ciò che è applicabile ovunque e questo ovunque che conferisce al pensiero il suo peso specifico è in termini spaziali un non luogo muovendosi tra gli universali tra essenze invisibili l'io che pensa è a rigore in nessun luogo sta qui allora la difficoltà per il senso comune per l'uomo comune che pensa semplicemente alle sue attività quotidiane da compiere tutti i giorni al suo utile al suo tornaconto sta qui la difficoltà di comprendere il pensare di cercare delle essenze che non sono da nessuna parte e quindi di estranearsi dal mondo stare in un luogo in un tempo che non ci sono se non una dimensione tutta interiore tutta interna al pensiero è questa la sfida che il pensiero pone al senso comune ma è l'unico modo per cui l'uomo può entrare attraverso il quale l'uomo può entrare in contatto con se stesso al di là come dicevo di un'identità sociale dell'identità che ci danno gli altri al di là del modo in cui appare agli altri perché può ripiegarsi su se stesso e perché può intrattenere un dialogo con se stesso un dialogo che quindi non è con l'altro e non è per l'altro ma il pensiero per l'arent e qui ritorniamo alla questione del male della banalità del male il pensiero implica anche una presa di coscienza sulla realtà il pensare ci porta a capire che l'altro esiste come soggetto incarnato ed esiste come soggetto pensante anche di e quindi attraverso il pensiero noi riflettiamo e comprendiamo l'essenza di un atto che può essere un atto come nel caso appunto di quella banalità del male di cui andare ci ha parlato un atto tragico proprio perché nell'assenza del pensiero e nell'assenza di coscienza il male può intrufolarsi in noi perché noi non ci pensiamo e quindi non lo sradichiamo non lo estirpiamo esso si attacca come si può attaccare il microfono con cui sto parlando al nostro corpo alla nostra anima e allora se ci verrà dato l'ordine di mettere a morte noi lo faremo perché non ci avremo pensato e non avremo annullato la possibilità di compiere il male se abbiamo visto che il pensare ha un potere quello di rendere per noi nulla quello a cui pensiamo e proprio perché ci pensiamo paradossalmente ancora maggior potere ce l'ha l'altro l'altra facoltà spirituale a cui si rivolge Anna Arendt in questa sua riflessione nel saggio sulla mente la vita della mente questa è il volere questa facoltà spirituale la volontà volere l'azione è volontà qualcosa si vuole e dunque si fa il volere però rappresenta un problema filosofico molto complesso da affrontare ed è sempre stato così nella storia della filosofia perché il volere implica la categoria di possibilità io posso volere qualcosa ma posso sempre non volerlo quindi siamo dentro la possibilità qualcosa può posso volere uscire il sabato sera o posso non voler uscire il sabato sera posso voler mangiare un piatto di spaghetti alle vongole o posso non voler mangiare un piatto di spaghetti alle vongole e così via dunque questa è quella che in filosofia si chiama la contingenza cioè qualcosa che potrebbe essere ma anche non essere possibile ma anche no cioè potrei benissimo non fare qualcosa questo perché dunque la volontà deve essere libera una volontà che fosse necessitata una volontà che fosse di per sé che avesse dei vincoli assoluti e fosse dunque una volontà condannata ad agire in un certo modo sarebbe una contraddizione in termini non avrebbe molto senso perché sarebbe un volere che però non è un volere perché sarebbe un volere costritto un volere costrittivo un volere perché così deve essere tuttavia però noi siamo in una rete in un sistema di cause ed effetti ma se qualcosa è una causa questa causa però è indagabile indagabile e precisa e noi possiamo dire che siamo all'interno del meccanicismo cioè siamo in un sistema di cause precise che rimandano le une alle altre e allora dunque la nostra volontà potrebbe essere mossa da queste cause ma allora non sarebbe la volontà a volere davvero a creare un inizio perché la volontà crea un inizio creazione quindi è creatrice perché fa sorgere l'essere le cose perché finché le cose sono soltanto nel pensiero nella mente come abbiamo visto non vengono messe in opera non si fanno ed è questo il problema del pensiero il problema, la complessità interna al pensiero leggiamo innanzitutto una citazione da questo punto di vista che ci consegna a Nared nulla sembra essere più contingente degli atti voluti che supponendo una volontà libera potrebbero essere definiti senza eccezione come atti dei quali so che avrei potuto benissimo non realizzarli una volontà che non sia libera è una contraddizione interna è proprio l'idea del cominciamento di un inizio assoluto di qualcosa che pone il problema perché come dovremmo intendere questa origine? da che cosa scaturisce l'azione? libera e volontaria la volontà ha dentro di sé qualcosa che può dare origine come dire al tempo, all'essere perché in qualche modo finché noi restiamo sul piano del puro pensiero non siamo dunque sul piano del volere ma allora siamo su un piano in cui c'è l'inazione totale c'è nulla perché c'è un non fare dunque che cosa può voler dire da questo punto di vista un inizio volontario e libero? io posso decidere che voglio alzarmi dalla sedia e il fatto che io mi alzerò dalla sedia in cui sono ora, su cui sono ora è certamente un inizio nel tempo ma è la volontà che vuole questo e lo vuole in modo totalmente libero innanzitutto io potrei non volerlo e quindi potrei non volermi alzare quindi restando in una posizione di immobilismo non solo, ma se io decidessi di alzarmi e quindi volessi alzarmi sarebbe la volontà a dare questo inizio sarebbero i miei muscoli e il mio sistema nervoso a dire che devo muovermi e alzarmi quindi la volontà ha effettivamente un primato ontologico un primato nell'essere dal punto di vista della volontà rispetto all'intelletto è la volontà che conta più dell'intelletto più del pensiero, più della dimensione razionale se si riconsiderano le obiezioni sollevate dai filosofi alla volontà all'esistenza di tale facoltà alla nozione di libertà umana che essa implica alla contingenza inseparabilmente connessa alla volontà libera a dire a un atto che per definizione può anche restare non realizzato diviene palese che esse si applicano assai meno a ciò che è noto nella tradizione come liberum arbitrum ciò che suscita così disagio è l'idea di un inizio assoluto infatti altra cosa è il cosiddetto libero arbitrio di cui si sente molto dire e si sente parlare l'essere umano è libero arbitrio si dice spesso ma che vuol dire? vuol dire che l'essere umano di fronte a due possibilità è libero di scegliere e questo non è che crea un grande problema appunto io posso scegliere come si diceva di fare o non fare una certa azione andare o non andare in vacanza fare o non fare un certo viaggio ma quello che è certo è che però il vero problema non è tanto scegliere da due opzioni ma dare creare le opzioni stesse le possibilità di scelta a partire da zero come se ci fosse un inizio un punto di inizio di una catena di cause ma questo è effettivamente nel potere della volontà perché come si diceva sembra sembra veramente complesso e complicato ipotizzare che si possa partire dal nulla cioè che si possa dare una spinta diciamo così una prima causa a partire dalla volontà ma allora questa volontà è incausata è causa di se stessa qual è appunto può dare origine qual è il suo il suo inizio se ne ha uno il problema sta essenzialmente nel fatto che quando abbiamo a che fare con la volontà libera e pensiamo alla volontà come si diceva se siamo all'interno di una catena di cause di un sistema di causalità di causa ed effetto e noi ci siamo perché sappiamo che la conoscenza aristotelicamente è conoscenza di cause e noi siamo dentro questa catena di cause non possiamo uscirne fuori perché tutta una causa in natura e anche per l'essere umano altrimenti sarebbe sconosciuto ma se è vero questo allora queste cause implicano una necessità come si diceva cioè una causa non può essere libera proprio in quanto causa è quella che regge l'azione e che è il fondamento dell'azione volontaria e dunque la spiegherebbe ma nel senso che la renderebbe necessaria non più contingente non più libera è qui il problema oppure dovremmo ammettere se siamo cristiani per esempio che esiste una provvidenza divina o un destino chiamiamolo come vogliamo ma questo che cosa implicerebbe di nuovo che in realtà la volontà non è libera perché c'è un disegno superiore ma se c'è un disegno superiore è allora evidente che noi non possiamo ipotizzare che la nostra volontà sia libera la volontà dovrebbe adeguarsi a questo disegno superiore al fatto cioè che esiste un progetto una progettualità indipendente dalla nostra volontà ma allora di nuovo la volontà non è libera ma se la volontà non è libera non è volontà e questo il grande problema che ha sempre creato un grosso ostacolo per la comprensione filosofica di questo concetto volere e pensare si oppongono perché il volere implica l'azione nel fare mentre invece il pensare vuole restare unicamente nel non far nulla e quindi nel puro pensiero in una dimensione prettamente ideale solo con se stesso è evidente che quindi volontà e quindi volere e pensare sono in antitesi laddove c'è la volontà il pensiero sembra venire meno perché per l'appunto se c'è un'azione volontaria il pensiero in qualche modo è stato sospeso e anche qui quella volontà malvagia che abbiamo visto nel processo ad Eichmann e dunque abbiamo visto nei gerarchi nazisti in tutti coloro che si siano macchiati di quelle colpe così gravi sta proprio nel fatto di aver voluto il male senza però averci pensato cioè senza averlo messo appunto nel circuito del pensiero quindi averlo sottratto in qualche modo al volere appunto come scelta che appariva necessaria perché soltanto la coscienza e quindi il pensare avrebbe condotto invece a una riflessione vera autentica e dunque alla possibilità di negare questa volontà questa volontà malvagia quella cioè di mettere a morte così tante persone quindi l'opera dell'Arend per chiudere qui questo video l'opera dell'Arend è un'opera che analizza il pensiero e la volontà nel nel contesto della storia della filosofia ma soprattutto analizza il pensare il volere come facoltà umane antropologiche oltre che teoretiche quindi pensare significa poter dialogare con se stessi significa poter mettere le cose in una luce in una prospettiva che le colora per così dire anche moralmente politicamente e che quindi le rende possibili o impossibili e quindi determinare anche il volere ma laddove c'è solo il volere senza il pensare è evidente che si crea un problema e tuttavia pensare e non volere perché io posso pensare ma non fare qualcosa dunque il rapporto tra queste due facoltà spirituali resta complesso e tuttavia l'Arendt ci ha detto con questo testo che noi non possiamo fare a meno di pensare perché l'essere umano è appunto una creatura pensante e la sua dignità sta tutta nel pensiero dignità che gli è data da questo pensare che è in suo potere e che quindi ha uno sconfinato potere anche sulle nostre azioni e sulla volontà stessa volontà che senza il pensare sarebbe semplicemente un robot un braccio meccanico che agisce senza però pensare né alle conseguenze né ai presupposti di quest'azione se il video vi è piaciuto e spero che vi sia piaciuto mettete like mettete like al video iscrivetevi alla nostra pagina facebook intus leggere e soprattutto anche al nostro canale youtube è gratuito ed è un progetto quello di intus leggere che stiamo portando avanti con grande passione e che speriamo arrivi a tutti voi e basta vi saluto vi do appuntamento al prossimo video vi do appuntamento